Siamo qui a Roma in questo ultimo modulo del corso di formazione per istruttori di terzo livello e un paio di anni fa, prima di andare all'Olimpiade di Rio, non pensavo l'avrei mai fatto in realtà dopo l'Olimpiade mi sono un po' interrogato se quali potevano essere l'attività che andavo a formare, a crescere il mio bagaglio di esperienze come atleta e ho pensato di dedicarmi a questo, un po' forse perché vedo nel mio futuro la possibilità di fare il tecnico ma soprattutto perché oggi mi sento ancora un atleta, sto continuando a fare le regate in Acra e credo, a posteriori, prendendo parte appunto di questo corso, che tutte le competenze che ho preso qui siano molto molto interessanti, molto spendibili perché non ero consapevole ma ci sono delle appunto know-how, delle conoscenze all'interno della scuola dello sport qui da Iconi veramente molto importante, molto bello, che mi sento di consigliare ai futuri tecnici ma sinceramente anche agli attuali atleti e quindi sono molto felice di questa scelta ormai siamo veramente a disgoci, mancano pochi giorni ma penso che ricorderò con grande piacere tutto il tempo trascorso qui